sta iniziando la battita dai ragazzi dai raga dai raga forza ciao adesso sono io a fare video qua ah fa il video adesso dai rubi il mestiere si si ho deciso di firmare ormai quali sono quelli di casa i blu o i gialli? blu e questi che hanno sono? 99? si dai 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 jack vai jack no giusta nicolas giacomo eh dai raga più grinta non voglio più grinta più grinta più grinta non più più che più 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 semplici desider timber Dai, dai, bravo portiere. Dai, bravo portiere. Dai, bravo portiere. Dai, bravo portiere. Adesso toccare col telefono faccio. Alla casa me lo trasferisco sul computer. Dai, bravo portiere. 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 Non riguardo a casa è il caldo, no? Noi, bravo portiere. Dai, bravo portiere. Dai, bravo portiere. Attenuto! l'uomo magari mi sembra che non gioca mica l'ha stato in gita anche andrei tra un po' ci truggiamo bestemmia per fare i video dai aeree no dai che si segni e piove ne più eccala eccala no 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 che è 5 no 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 ora mi preparo mi vesto sono già le 8 vengo qua faccio colazione no l'altra non la registro neanche quale quale è originata? no 97 non mi ha ancora registrata quindi del 98 sembra giocando dopo no 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 ho finito questa e alla una me ne vado bravo 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 Sì, è il primo timo, lo sapevo. Sono a mezzo? Ecco. Sponiamo il primo timo. Sì, è 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 il primo timo. Sì. Sì, è il primo timo. 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 È il primo timo. È il primo timo. Sì, è il primo timo. Chi mi cercava? Ah dove? Dai Jack! Scivola! Nooo! Arrivederci anche belle cose! Vai a casa senza voce! Ah si, prima o poi! No subito, non poi! Per poi mi scenderà la voce! Sei riprendendo? Si! La metto su Facebook! Bravo Nova! Bravo No! Bravo! Bravo! Bravo Arbitrogeo Clinico! no occhio clinico no 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 lo so lo dico apposta voglio far ridere un po' oggi bravo tu ancora non c'hai voce lo so hai visto l'artigio come fa ridere? occhio clinico infatti ho detto dai si eh mamma ta a mamma ta ciao 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 dai bravo bravo ma tu non c'hai cos'hai? nooo dai bravo nooo nooo bravo passala pericolo ambulante pericolo ambulante ma non c'hai non c'hai ma non c'hai che cosa non c'hai? occhio clinico in buca la sta palla in buca in buca la sta palla dai 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 eeeh non c'hai non c'hai ma non c'hai ma non c'hai ma non c'hai ma c'hai ma eeeh siamo a rimessa laterale per i gialli Sì, Sì, Sì. è il centro della parte io adesso ho tantissime dicci e non ci sono che non lo so firma bene ma lo che ti vuole l'oree quasi in grandimente che pigiami? no è un panchino hai giocato il gioco? no non gioco perché perché sono andato gli allenamenti ah la madonna bravo guarda lì se non fai stor eh 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 rimesso a tenare per i gialli non mi gioca mai con 3 gradi ci sono eh? 3 gradi eh eh da 1% ebbè dai ma non è l'entrata secondo tempo mai bravo portiere dai 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 oh Oh, è cazzato! Un cerco, un cerco. Sì. Dai bravo Ash, dai, dai! ho messo la battuta da Novati Ash Mondella Donna Rumma Donna Rumma Bazzali che è Dennis? Dennis, vabbè io ho perso 2 a 1 bravo dai Andre buonanotte a Secchio buonanotte a Secchio aspettate morale bestemmie dai raga dai va bene dai che è nostra messa per il Senaco sì manca 10 minuti la stai firmando? sì di dopo fai la teletona è su YouTube sì bravo mi mando anche il link ma sì sicuro sì sì ci sono ancora 7 ore ma ascolta guardi il pavimento di tanto però aspetta vediamo eh vabbè ma è secco sì dai eeeh 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 ci stavo dicendo ti ho fatto la torta Poi l'ho fatta a prenderla, così non funziona. Grazie a tutti. Poi l'ho fatta a prenderla. Oh no! Mi sto scelerando qua. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Fantastico! Oh no! 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 bravo, bravo non c'è la tua campagna la parte di qua film poi me la fai io no la faccia di qua filmo che c'è la palla la rovesciata la fatta Mondella non fa niente filmo che c'è la palla dai 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 tira 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 se segni piove se segni piove scusate di filmare gesto scusate di filmare gesto filmo che c'è la palla 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 dai bondi asci ma dai cappelli ma dai cappelli ancora ti faccio male no lui è solo di prima la fine la prendo tutta la partita manca poco a fine primo tempo me lo metti in senso ricordati che devo portare anche a te vai vai ma perché bravi